Ciao a tutti! Oggi voglio far vedere alcune cose su Michael Jackson e il mio libro. Venite! Questo è un abito smooth criminal. C'è una giacca con la camicia bianca, la cravata, il pantalone nero e il cappello bianco con la striscia nera. Questa è il thriller. E' uscito molto un tempo fa con i zombie. Bidit, dei dolcari e botarossi, soldati e il mio libro Bidgin con il guanto luccicante, tutto palettato, la giacca brillantinata e il cappello. Ora vi faccio vedere alcune cose che tengo su Michael, alcuni cd, cd, dvd, di tutto. Questo è stato il mio primo libro di Michael. Poi tengo le lattine delle pepsi. Vabbè alcuni altri cd e figurine anche su Michael. Questo è il Kandau 2016. E' anche un ricordo fatto così. Questo è stato di Michael, vestito da Billie Jean. Poi cominciamo con i quadri. Questo è il primo quadro che ho compiato su Michael. Questo è il mio libro di Michael Jackson di Annapoli, 21 agosto del 2015. Con il coreografo, l'avesmetto e il pensionamento proprio non dà. Il secondo palo su Michael. Le mie dieci coppe. Io faccio un Michael Jackson style. Tutto è il primo posto e il secondo posto. E' l'album più ventuno venduto di Michael Jackson. Milioni di dollari. Ok, ora passiamo ad A. Passiamo a questo terzo quadro, che è stato un regalo di Natale, tanto tempo fa. Questo è il posto di un cd che si chiama Scape, che si trova nel cd dorato. Ok. Quello è un orologio che ho preso. Questo è sempre un orologio, posso stare come sveglia all'uso. Un regalo. Vabbè, ora è di sotto, ma lo tengo sempre come ricordo. Questo è un cuscino che ho comprato molto tempo fa in un viaggio a Remini. Io ritengo anche la maglia. E questo è il mio grande posto. Il mio piccolo da piccolo. E ho prodotto un po' con il rai e il piccolo. Che è il mio piccolo da piccolo. Questa è la striscia. Che si attacca al muro. di Malarico su Big Gene, Bad, Taylor tutte le canzoni che ha fatto lui ok vi mando un saluto a pesto a pesto a pesto a pesto